Non rinuncire questo giang, per me è molto molto bella, mi sento un'autorità molto grande. Questo è il secondo cui l'Italia ha per il nostro territorio di città 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 di città. Allora è davvero un piacere, un onore di essere qui a ritirare questo premio in nome dell'Ufficio Nazionale del Turismo Cinese in Italia e credo che questo premio rappresenta un riconoscimento dalla parte dei colleghi italiani, degli esperti italiani nel settore di archeologia su Baguaia e quindi è davvero un piacere Allora Italia sicuramente è un paese che gode la sua fama internazionale anche in Cina quindi possiamo dire che l'Italia si elenga tra una delle destinazioni primarie per i turisti cinesi prima della pandemia abbiamo ogni anno circa 6 milioni dei turisti cinesi che venivano in Italia Grazie Grazie Grazie